Cinque anni di lavoro intenso, ricordiamoci che questi sono stati cinque anni drammatici sotto il profilo della crisi economica, sotto il profilo occupazionale, però siamo riusciti a garantire i servizi di primaria importanza ai nostri cittadini, siamo dati incontro all'esigenza anche di tante imprese, gestite le casse integrazioni, gestite le crisi aziendali. Un'amministrazione regionale efficiente in un periodo contrassegnato da tutte le difficoltà di questi anni di crisi. Nicola Finco si candida alla riconferma in consiglio regionale con la lista Zaia Presidente, rivendicando i risultati ottenuti in questi cinque anni di lavoro. La presentazione ufficiale della candidatura a Pianezze in un'azienda presa a simbolo, un'azienda che rischiava di fallire ed oggi ha saputo risollevarsi e tornare un'azienda in salute. Questa di Pianezze è una delle 16.000 imprese aiutate dalla Regione Veneto attraverso i fondi che abbiamo messo a disposizione, e quindi abbiamo sempre puntato sull'imprenditoria, in particolar modo l'imprenditoria giovanile, e questa sarà una anche di capisaldi per i prossimi cinque anni a guida a Luca Zaia. Tra i temi su cui lavorare in Regione, anche le crescenti difficoltà di bilancio degli enti locali. I comuni sono al collasso, non riescono più a garantire i servizi essenziali ai propri cittadini, servizi di primaria importanza, pensiamo a tutto il welfare, il sociale che è nelle mani dei comuni, quindi con loro verrà fatta una pianificazione e soprattutto verrà adottata una strategia per mantenere ulteriori risorse su questi territori, perché è ora di finirla con le nefandezze che lo Stato continua a perpetuare, soprattutto agli enti locali.